L'accordo sugli esuberi è il vero scoglio della difficilissima trattativa all'Italia. Solo una volta superato quell'ostacolo sarebbe possibile varare il piano industriale, condizione necessaria per far affluire nuovi capitali ed evitare il commissariamento e quindi l'inizio della fine per la società. Confermato lo sciopero del 5 aprile, sindacati e compagnia tratteranno a oltranza fino al 13 aprile per chiudere con un accordo prima di Pasqua, l'ha detto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al termine dell'incontro di ieri sera. A spingere sui tempi sono le enormi difficoltà di cassa. L'azienda già a fine aprile potrebbe non avere più i soldi per pagare carburante e stipendi, ma gli azionisti, in primis le banche, banca intesa Unicredit, sono disposti a scucire altro denaro solo dopo la firma dell'accordo con i lavoratori. Da parte del governo c'è la volontà di favorire al massimo il salvataggio della compagnia, da parte sindacale invece la chiusura è ancora netta. Nessuno su questo fronte si sente rifirmare un pacchetto di licenziamenti come quello proposto, cioè 2000 persone, e comunque alcuni rappresentanti dei lavoratori fanno notare che c'è anche il nodo intricatissimo del taglio dei salari di circa il 30% per piloti e personale di volo.